dalla tq di narena una grande sorpresa è bella per noi il ritorno di anko zamernik ciao a tutti un saluto grazie oreste per presentarmi comunque allora ian come come è passato quest'estate cosa ti aspetti da questa stagione a trento che belle domande potevi fare anche interviste ma bella estate vela estate lunga soprattutto lunga però alla fine non siamo riusciti a qualificarsi alle olimpiadi però comunque una bella impresa che abbiamo fatto e adesso siamo qui di nuovo in campo secondo me dobbiamo presentare che siamo una grande squadra mostrare questo in campo questo sarà da domani in poi il nostro lavoro vogliamo farlo così grazie a tutti a presto a presto a presto Grazie a tutti.